Come andate al tribunale? Cesare, io ti avevo parlato un'altra cosa. Qual è stata la sentenza? Mi dispiace per voi, ma non se sono rivortate le carte sul caolino della storia. Undici sì, su undici presenti. E bravo il monsignore, così avete votato morte pure voi. Cesare, qui non c'è poi più sta, non è più sicuro, bisogna che te ne vai. Dove? A Parigi con mamma? Stamattina ho visto tutto un movimento di zuavi, di francesi, che uscivano da Porta Pia, Garibaldi sta a Mentana, il cerchio si chiude. E io mi nascondo come il sorcio. Anche se non vuoi bene a tua madre, fallo per Teresa. Quella devo bene, è venuta a piangere a me, dice per carità, nascondetelo. E io pure... Pure voi che? E io pure ti ho nascosto, un minimo di riconoscenza. Io non devo niente a nessuno. E allora va, va, va a morire ammazzato con Garibaldi, se ti pare da sorcio, sta nascosto. Sarà sempre meglio che mettere la testa da te sotto la ghigliottina. Chi è? E usala bene. T'ho detto usala bene. È meglio di così? Monti e Tognetti saranno vendicati prima ancora che caschi la mannaia. Queste sono le cartucce. Era di povero papà. Ci si ammazzò appena donna, pensa. È l'unica cosa che mi ha lasciato. Dice, diala da conto, te potrà sempre servire. A me. Quando i padri non ci indovinano mai. Chi è? E adesso me spari o non me spari, non me ne frega più niente. Perché è già mai sparato. Ciao.